Sono Lucia, questo corso è stato bellissimo perché ho già sperimentato la Divine Connection con Patrizia come metodo anche da sola, però stare nel gruppo insieme alle altre persone ha sviluppato un'energia potentissima, abbiamo fatto dei lavori fantastici, molto intensi e profondi. Lo consiglierei a chiunque perché è proprio un corso che utilizza una tecnica di trasformazione molto potente e molto facile da usare, la descriverei quasi come una cosa magica perché funziona davvero ed è veramente facile da utilizzare. Ho sciolto un bel po' anzi la paura di essere giudicata altrimenti non starei facendo questo video che non sono riuscita a fare l'ultima volta e dopo aver lasciato appunto la testimonianza sul libro di Patrizia mi sono decisa di sciogliere questa paura e di farlo anche appunto facendo questa testimonianza. Sì, grazie Patrizia, un bacio gigantesco, grazie mille!